Siamo con Luciano Cesaretti del Borgo Rosso, una sconfitta amara per 2-1, che partita è stata? Una sconfitta amara come tutte quelle che abbiamo subito dall'inizio della stagione. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita secondo me e invito tutti coloro che seguono il nostro circuito a guardare la classifica, la differenza gol di questa squadra che praticamente si ritrova nei bassi fondi della classifica avendo perso sempre di un gol e sempre nei minuti finali. Abbiamo lasciato 5 punti negli ultimi minuti, oggi abbiamo giocato contro una delle candidate al titolo, una squadra che gioca benissimo, che ha giocatori che vanno a tre velocità oltre la nostra, eppure abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, quindi abbiamo chiusi bene, avevamo annullato le loro armi, specie nel primo tempo. E poi abbiamo pagato, purtroppo, l'ennesimo infortunio di questa stagione, ne sono fatti male contemporaneamente, vabbè, Minozzi già era arrivato al capolinea proprio a livello di autonomia, contemporaneamente si è fatto male Petrolo, abbiamo dovuto rimettere in campo Marchetti che non stava bene e purtroppo proprio Simone non è riuscito ad intervenire su quella palla 6 minuti dalla fine. Però resta la grande partita che abbiamo fatto e questa squadra, non per presunzione, ma io credo che se mi segue a livello proprio di spirito, di voglia, di determinazione, può ancora invertire la rotta. È chiaro che se ci fermiamo a vedere i risultati la classifica è sconfortante, però oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo ricevuto anche i complimenti dalla squadra avversaria che credo fossero sinceri e meritati. E allora in bocca al lupo anche la parte mia, Luciano Cesaretti e tutto il Borgo Rosso per le prossime partite. Grazie.